Musica Nel nostro viaggio nella banchina di Calata Anselmi troviamo anche la postazione di Uno Communication e non è la prima volta che siete presenti al raduno delle vele d'epoca d'Imperia. No, ormai sono anni che siamo partner tecnici della Sonautica durante questa manifestazione per dare tutti i servizi di telecomunicazione ai ragazzi della Sonautica, alla segreteria che si spostano in realtà già in questa zona nelle settimane precedenti e poi a tutti gli equipaggi durante la manifestazione forniamo il wifi, ormai inelludibile. Serve a tutti, anche alle vele? Assolutamente a tutti e ancora di più a tutti gli equipaggi stranieri che vengono in Italia dove magari i loro abbonamenti dei cellulari non possono utilizzare la parte internet e quindi vengono sempre a richiederlo. E inoltre diamo tutti i servizi alla stampa, anche a voi, dove l'ufficio stampa si recano per spedire tutte le fotografie fatte durante le meravigliose recate. Ecco, il vostro è un settore molto particolare, quello della tecnologia, diciamo così. Com'è andata intanto l'anno scorso? Diciamo che il 2015 è stata un'annata meravigliosa per la Uno in quanto grazie ai nuovi servizi e alle nuove tecnologie siamo riusciti in un anno solo a portarci a casa al 36% in più dei clienti del nostro servizio HPDSL. Annata veramente meravigliosa che ci ha portato quest'anno a dover fare notevoli investimenti sull'infrastruttura, che ormai è necessario sempre avere più banda disponibile per i clienti in tutti i momenti e in tutte le ore del giorno, sia privati che aziende. Non peraltro i primi 4-5 mesi di quest'anno siamo stati concentrati tutti quanti a portare a termine i lavori che oggi ci permettono di avere una rete di trasporto in fibra ottica che va ad oltre 40 giga di capacità. Direi che in Liguria non ce l'ha nessuno. E allora parliamo di futuro? Futuro, stiamo continuando a portare a termine questi lavori di miglioramento e a sviluppare sempre di più la nostra rete HPDSL Fast che tra l'altro è quella che utilizziamo qua in banchino, una rete wireless che ci permette di portare internet ad alta velocità, 10, 20, 30 mega dove la DSL normale non funziona e con i nostri oltre 380 siti che arrivano da 20 miglia fino a Sarzana, siamo la rete più estesa nella Liguria e quest'anno stiamo ancora aggiungendo altri siti e aumentando le nostre coperture.